riflessione su cosa che fa una scuola al 100% di presenza adesso dove discutere su Zoom, Meet, Webex o quello che è, è ancora più complicato, è ancora più proibitivo poi i professori come dice la compagna sono tutti indietro nel programma quindi no, assolutamente no si va avanti punto e basta ma tutti questi problemi con la DAD sembra che li capiscano solo quando gli fa comodo per propaganda politica che era un altro punto che qualcuno tirava su prima bella la propaganda politica, bella per voi però a me non mi cambia niente oggettivamente chiunque sia sullo spettro politico che farà qualcosa di concreto, di veramente utile per la scuola sarà da ringraziare smettessero di far propaganda, almeno io la penso utile anche voi. No, sicuramente su questo non ci piove la propaganda qua la fanno tutti quanti destra, sinistra, centro se esiste più una destra se esiste più una sinistra questo è anche un altro tema un altro argomento comunque sì insomma alla fine giriamo attorno ma la didattica a distanza quindi in realtà l'emergenza sanitaria ha soltanto come dire accentuato quelli che sono i problemi in particolare quello della scuola che doveva essere però come dire tamponato sì tamponato assistito a bovo nel senso che in questi casi